10 appuntamenti a cavallo tra inverno e primavera, tra musica e teatro. La stagione è stata presentata nella mattinata di oggi la ventiduesima stagione di prosa in programma presso il Teatro Roma di Ostuni. La stagione è stata presentata dal sindaco Gianfranco Coppola, dall'assessore alla cultura Niki Maffei e dal presidente del teatro pubblico pugliese Carmelo Grassi. Il programma Ostuni Inverno contiene inoltre diversi appuntamenti del periodo natalizio con i classici della tradizione popolare ostunese. Dal presepe vivente messo in scena dal gruppo folk La Stella, al villaggio di Babbo Natale, ai mercatini di Natale a cura della Ghironda. Ultimo appuntamento con le festività natalizie, viva la Befana a cura del gruppo folk Città di Ostuni. La stagione musicale e teatrale partirà invece il prossimo 11 dicembre 2015, quando sul palco del Teatro Roma di Ostuni saliranno Fabrizio Bosso, Fabio Concato, Julian Oliver Mazzariello, con lo spettacolo Canzoni. Sta per partire la stagione teatrale 2015-2016 ostunese, una stagione come ha detto lei in conferenza stampa unica, che coniuga alla perfezione il binomio teatro e musica. Sì, davvero una bella soddisfazione perché questo rapporto oramai consolidato, Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Ostuni, quest'anno si è arricchito di questa nuova esperienza e devo dire che sono molto contento perché abbiamo grandi appuntamenti musicali, ma nello stesso momento una varietà e una qualità della proposta teatrale è molto alta e credo che gli ostunesi, ma non solo gli ostunesi, potranno avere questa bella occasione di vedere la grande musica e anche il grande teatro perché l'offerta è molto particolare. Abbiamo fatto delle scelte innovative e anche delle scelte di qualità, abbiamo avuto una stagione teatrale e musicale sicuramente di livello e ci aspettiamo anche le risposte della città, quindi io invito i cittadini a sottoscrivere, insomma fare l'abbonamento, soprattutto per rispettacoli teatrali che viene proposto anche a un prezzo abbastanza, diciamo, bordabile, dai 90 euro fino ai 123 euro a seconda dei settori.